E ragazzi, io sono FeriNiki E io sono Stef E quest'oggi torniamo su Granni Dato che mi sa che Consolini l'avete apprezzato davvero davvero un botto Ferra quanto sta di likes? Quasi 20.000 In un giorno? Mmh Ok Vabbè, gli abbiamo chiesto noi mettete like se vi piace Allora è piaciuto Tutto in regola Quindi ci volete vedere morire di nuovo con la nostra nonnina Allora, non abbiamo letto troppi consigli Perché ovviamente molti di voi sanno come si finisce il gioco E non vogliamo sapere tutto Quindi abbiamo letto giusto qualcosina Esatto Per essere in grado di andare avanti Ma in linea generale ci avevamo già fatto un'idea Al pieno di sopra ci sono delle cose che possiamo continuare a fare Soltanto se troviamo degli oggetti Mentre al pieno terra c'è il succo di tutto E secondo me la cucina Stef è la parte più importante Dove abbiamo trovato il melone Secondo me c'è anche altro Perché le altre stanze, bene o male, mi sembrano abbastanza vuote Allora, dove c'è il melone Sì, è che sai Lì mi è sembrato che ci sia una sola cabina Dove nascondersi in tutto il pieno terra Quindi o riesci a non far rumore O sei fregato Ma non si può camminare a covacciati Non c'è questa azione Perché c'è Eh, lo so Queste assi Le assi della casa Scricchierano tanto Quindi è molto complicato Sta roba nel tavolo Non la possiamo prendere Il vaso Non credo Perché le ottiriamo in testa Eh, le ottiriamo in testa se arriva qui Stef Secondo me negli scalini C'è qualcosa che Ah, sono i quadri Sono i quadri Sì, sì, sì Stef ti ho anche visto Perché hai fatto un disastro Via, 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 via Voi ci mette le trappole E ci richiude di nuovo nella stanza Ok, quindi ci sono dei quadri Fatti apposta per farti colpire il quadro Farlo cadere E lei scopre Certo, certo Ok, ok, ok Beh, era importante saperelo Beh, ha risistemato il quadro Fere Sai, non vuole la casa in disordine L'allonina Si arrabbia Sembra che vada a sistemare il quadro Piuttosto che inseguire a noi No, secondo me solo perché siamo scappati Un coincidenza Capito Ok che è in forma Perché potrebbe essere utile Per distrarla Farla andare in altre stanze Secondo te avrà finito Questo è utile, vai No, la sento Stef, la sento Sta salendo Poi è lento Ci fa perdere un botto di tempo Eh, lo so Ma bisogna avere Capito Molta pazienza in questi giochi Se tu non hai pazienza Io non ne ho, non ne ho infatti Ti prendi Fa anche il vaso Alla fine mi sa che non ce ne facciamo una ceppa Colpa tua Annina Ho messo la trappola Ok Che poi cos'è quella cosa Che lucica lì Cos'è? Non lo so Non l'ho ancora capito Sta arrivando, vero? Non lo so Non ho capito se eri tu Che facevi No, ero io Però Pensavo ci avesse sentiti Capito? Sì Riesco a evitarla? No, 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 no Fai il lato delle scale Tranquilla Occhio c'è anche il filo Eh vedi Io non li vedo con i fili C'è il filo in terra Praticamente attaccato alla porta Che fa un muovere Con la campanellina Ora ci arriva una sberla E vabbè Attraverso il muro Non è servito Non chiedermi mai più di prendere un vaso Non me lo chiedere mai più Sì ma perché il personaggio lo tira Non me lo chiedere mai più Dovrebbe prendere e tira in testa Ovviamente non siamo persone in forma Ok? Ma non mi chiedere più di prendere quel vaso Era terribile Inutile E mi distraeva E andavo pure più lenta Secondo me Non sei stato in grado di tirarlo Allora Nonnina Dai Non mi diverto di essere chiuso E ti butto giù tutto Nasconditi così lei entra a sistemare il quadro Vediamo se funziona sta roba Sì Se tipo si rende conto che in casa sua c'è qualcosa che non va Guarda Sta forzando la porta Eccola Sistema il quadro A te non le piace la casa disordinata Però vedi Almeno possiamo farla arrivare qui ad aprirci la porta in fretta All'anolina non piacciono due cose La casa disordinata e i nipoti Non l'ha rimessa a posto L'ha guardata e l'ha lasciata lì Vabbè C'ha detto un siiu Brava vai da quella parte Ah no Vabbè È comparso di nuovo il quadro Allora Se lei va da quella parte Vuol dire che noi Sta mettendo trappole step poi Sta scendendo Cioè come si può scendere in cucina Cioè poi lì sotto Non ci sono nascondigli E quella è la cosa terribile Devo prendere cose al volo Giusto per scoprire Cosa c'è Anche secondo me E cosa non c'è E poi eventualmente Tornarci Senza paura di essere colpiti Senza paura della nonnina Trappola vero? Aspetta La vedi lì Sì Aspetta In cucina Ok Dei fare attenzione Lei sta camminando La campanellina nella porta C'è il filo proprio Capito Quindi lì quando ci passi Fa un disastro Cos'è quell'oggetto? Come ci si dovrebbe arrivare Soprattutto? Non lo so Non è olla Perché poi se ti avvicini Fai cadere i quadri Quindi è un disastro Forse dovremmo tirare un oggetto Probabile Ok Beh perché se illumina Sicuramente è importante Sì Non penso sia messo lì a casaccio Ok Secondo te Possiamo andare in cucina Ancora no Non lo so Stef E' andata da quella parte Ma che devo fare? Vabbè Ehi sta andando piano piano Pianissimo Sei un fenomeno Cos'è? E' il vaso che abbiamo tirato prima Lascia perdere Brava Cos'era? Cos'era? Ho fatto un po' a vedere Perché mi ha fatto scendere un colpo A me no Sapevo che c'era Facciamo troppo rumore lì sotto Facciamo troppo rumore Quindi sapevo che c'era Sembra che le cose siano in cucina Sì Allora già lì c'era qualcosa E non era il melone Che avevamo già preso No il melone infatti Ma sembra che sia da un'altra parte pure O forse no L'avamo trovato da un'altra parte Non mi ricordo Forse cambiano anche posizione gli oggetti Non lo so Magari sono un po' casuali Per non farti rifare sempre la stessa partita Che noiosa Calma nonina Calma 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 Torno a letto Torno a letto Ma perché? No no Non posso neanche dormire qua No 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 E' sempre arrabbiata E' sempre arrabbiata Ha detto Come ti sei permesso a dormire? No vabbè Perché ci aveva beccato fuori Eh diciamocelo Ci aveva beccato fuori E' davvero difficile Cioè E' davvero complicato Che non è facile Lo sapevamo già Perché poi non abbiamo niente In questa In questa stanza dove siamo Siamo costretti Ad andare continuamente In altre stanze Ma Non sta finendo bene Non è arrivare a te Sto giocando io Ma stai arrivando anche da vedere Perché tu vorresti fare Invece Le team Ti interrompe sempre Piano piano Mia nonnina Divento così Silenzioso Ti prego nonnina Ti prego rifarmi E' l'ultimo Non mi ha nascosto Mettiamo difficoltà facile Eravamo difficoltà normale Mettiamo difficoltà facile Proviamo facile Giusto per capire le cose Poi lo proviamo Nelle varie difficoltà E' ovvio 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 L'obiettivo sarà finirlo Un po' in tutte difficoltà Però Andiamo in quella facile Vai nonnina urla Chissà com'è quella estrema Steph Beh adesso è pazza Lì vola la nonnina Lì la nonnina vola proprio Attraverso i muri Attraverso tutto Consolini Difficoltà semplice Dobbiamo arrenderci sulla normale Cosa abbiamo? Si muove leggermente più lentamente E il pavimento non scricchiola Oh Questa è una buona cosa Mentre L'hard cosa ha di difficile? Si muove leggermente più fast One extra lock on the main door Quindi c'è un lucchetto in più Nella porta principale Che ci serve per scappare E nell'altra ci sono due lucchetti in più Si muove più veloce di te E dopodichè la darker mode is on Quindi probabilmente non vedi nulla Non vedi niente Non vedi niente E' dura Vai Giorno 1 modalità semplice Però secondo me quando si Più lenta E non scricchioliamo Easy Secondo me infatti si scoprono Prima tutte le cose Poi Siamo stati sbrufoni Pensavamo che la nonina fosse scarsa Non è scarsa Esatto 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 Non è scarsa Pensavi di poterla battere invece no 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 Assolutamente no Ok Ci siamo Questa è la nostra partita Qua inizieremo a scoprire le cose Qua inizieremo a scoprire Che cosa succede in questa casa Allora penso che gli indizi saranno Ah ma guarda non c'è neanche la cosa che luccino No si Si Ok quadri C'è già un filo Quindi vai qui Vedi è questo qua il quadro che crolla sempre Quindi io questa volta Passo da qui Che cavolo è caduto Non lo so Ci arriva da dietro Ok Ah Il nostro personaggio Deve fare il silenzio E si muove così Buttiamo giù tutto quello che mi capita Quadri Vasi Bicchieri Facciamo rumore Non c'è la possibilità di rivestirlo di celofan Se non fa chiesto Magari Si è fatto cadere in cucina Non ho capito C'era qualcosa nel tavolo Donnina Su Vieni da noi Su 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 Abbiamo buttato giù il quadro Siamo persone terribili Vieni da noi Adesso ce l'ho chiuso Anche secondo me Finisce così Non usciremo mai più da questa stanza Eccola eccola Ciao nonnina Perché lei ci vuole bene Vieni a trovarci Vedi 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 Guarda che brava Appendi di nuovo il quadro Su Mi sa che riblinka Però Si rimane un po' Un po' a fare le cose Poi Perché vabbè Lei potete Aspetta Dobbiamo capire Dobbiamo capire se mette una trappola Sembra di no Il quadro Ma perché lei fa tutto col pensiero Capisci Che era? Ha dato due colpi di martello Bravo martello Sì Ok Lei va di sopra È un'ottima occasione questa Ok Ok È un'ottima occasione Comunque teoricamente siamo in grado di Di scappare da lei Perché è più lenta Tecnicamente se siamo molto veloci Però cioè Dobbiamo stare sempre in costante movimento Ok Pronta? Vai Sono pronta Vai Concentrata Sì lo sono Dobbiamo guardare tutti i cassetti di quella dannatissima cucina Vabbè nonna però eh E ho Cioè Ha rottuto le scatole Sì Due ore ad aspettare E ripassi da lì Eh che noia Noi dobbiamo esplorare la casa Dobbiamo vedere Che cosa c'è Cosa non c'è Non puoi stare lì tutto il tempo A girare intorno alla nostra casa La nostra cameretta A non farci uscire Vado Vai Fa rumore anche solo quando respira Sto qua guarda Dov'è? Non lo so ma facciamo la trappola La trappola La ha messa malissimo La ha messa al contrario Eh vabbè È vecchia Ma Diceva che non scricchiorava il pavimento Perché infatti Sembra che buttiamo giù qualcosa Sembra che buttiamo giù qualcosa Ma non capisco cosa Non c'è nulla No Allora hanno detto Difficoltà easy Non scricchiola A me sembra E come scricchiola E come si scricchiola Fere Ci stanno Io mi sto alterando Io mi sto alterando moltissimo Te lo dico Ora guarda Ti faccio vedere un po' Faccio così Basta Non devo più avere paura Della nonina E accade una cosa Niente Adesso arriva da dietro Eh ma va in giro 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 Eh no Ma sai Secondo me Scappa 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 È talmente lenta Che noi Basta che corriamo un po' Questa porta Non l'abbiamo mai vista Fere Bloccata L'abbiamo seminata Secondo te No Ah stai giocando A nascondino Ti fa Sì siamo bravi A nascondino Che abbiamo trovato Un pezzo Di qualcosa Sì ma non ce ne facciamo nulla Perché è di un puzzle Che sta nel seminterratto Ah ok Per ora non siamo in grado Di finirlo Ok Ok nonnina ciao Brava Piano piano sto frugando Eh ma mo ti prende La cucina è difficile È difficile da esplorare Sta mettendo trappole Nonnina Calmati Rilassati un attimino Non c'è nulla qua No non mi sembra Guarda che ti piglia Però se stai fermo troppo Ok Ok Sto cercando di capire da che l'altra Vuole venire a prendermi Quindi io posso girare qua Ok Facciamo Che facciamo Perché qui non abbiamo ancora capito Che noi siamo Questa qua Il seminterrato Magari un pezzo di un po' No Safe key E a cosa può servire La nostra prima chiave E anche lì c'è Abbiamo trovato una chiave E questo Teddy Consolini non ha idea di che cosa serve Però evidentemente a qualcosa serve Gli oggetti prendibili Secondo me servono sempre Commenti fatecelo sapere Perché questo è importante Arrendiamoci Abbiamo scoperto Per ora Per ora ovviamente Passaggi segreti Contro passaggi segreti Teddy fateci sapere A che serve Che siamo curiosi Questa safe key Magari fateci sapere A che cosa serve In modo tale che Per Mamma mia E caldati un attimo In modo tale che Per il terzo episodio Riusciremo Quanto meno A conquistare qualcosa di importante Sì anche secondo me Una prima arma Un prima Sorte di mini fuga Qualcosa La dobbiamo ottenere per forza In ogni caso Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Lasciate tanti like Se ci volete vedere Continuate a giocare a grandi E ci fermiamo Così Ciao